Non ti muovere, Sylvain. C'è qualcosa. Senti gli Yak, ci hanno visto di sicuro. Monnier aveva fatto dell'appostamento sia un'estetica sia una filosofia. Mi aveva invitato ad accompagnarlo in Tibet, alla ricerca di un essere che reputava ormai scomparso, la Pantera delle Nevi. Siamo così indifferenti al mondo che ci circonda. Ne siamo appena coscienti. In mezzo alla natura, invece, ti confronti con te stesso. Non puoi barare. Monnier mi aveva permesso di sollevare un lembo del velo per contemplare il vagabondare dei principi della Terra. Quindi ci ha visto passare. È qui. Ci osserva. C'è qualcosa. L'hai ripreso? Il cuore ti sussulta. È tutto ciò a cui noi abbiamo rinunciato.